Sei? Buongiorno, allora, alla signora abbiamo fatto una riabilitazione del gruppo frontale con dei provisori immediati, circa 4-5 mesi fa, e oggi è arrivato il grande momento dove abbiamo posizionato i definitivi. Dobbiamo sapere dalla signora, allora, 1. Cosa ha sentito durante l'intervento, 2. Come si è trovata con i provisori e 3. Il risultato finale. Ok, l'intervento sembrava peggio, invece è stato non doloroso, tutto ok. Pensavo peggio, dicevo. Poi mi sono trovata abbastanza bene e questo è il risultato finale. Pensavo peggio, quella paura che avevo è stata meravigliosa, il dottor Rimotti. Grazie mille.